Che cosa vuoi? Niente, voglio solo starti accanto Non dovevi venire Cosa? Perché mi hai seguita qui come se non fosse successo niente? Ti ho colpita poco fa Lo so, ma so anche che stai soffrendo molto Non hai paura di prenderti un altro schiaffo da me? Se avessi paura non saremo mai amiche, non ti pare? Iui, presto! Dimmi, Iar, che cosa c'è? Io e i virtuali pensavamo di poter gestire una situazione da soli Ma questa volta il virus sembra essere più potente del solito Non ce la facciamo Ho capito, tranquilli, arrivo subito Come pensi di fare? Ora non puoi trasformarti Già, ma se resto qui non potrò comunque aiutarli Devo fare un tentativo, forse riesco a fare qualcosa Io non capisco Se vuoi che una situazione cambi devi agire in fretta e non restare a guardare Invio! Voglio venire con te Voglio cambiare Posso, Iui? Ma certo, Ico No! Ahah! 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 Grazie a tutti.